La realizzazione dello stadio del fondo ai piani di pezza nel comune di Rocca di Mezzo sta provocando polemiche. A intervenire sono diverse associazioni, tra le quali Italia Nostra. Un progetto di sviluppo che secondo le associazioni si abbatte sul territorio. Un intervento che coinvolgerebbe solo l'area ridosso del rifugio del Lupo. Un progetto che prevede una pista lunga a 200 metri, varie strutture di servizio con un laghetto artificiale, reti di contenimento della scarpata e gradinate per gli spettatori, ma non solo. Un'opera che per le associazioni insomma avrà un impatto enorme. Il territorio invece deve rimanere così. A quanto pare inoltre la vinca non è stata pubblicata per il tempo previsto e dunque le associazioni hanno spedito all'istituzione una richiesta di intervento in autotutela. Cosa ancora più grave per le associazioni è che tutto sia stato fatto in sordina. Anche il WWF ha presentato le proprie osservazioni. Il progetto per loro è da rigettare in toto, sia per criticità nelle fasi procedurali che nella valutazione degli impatti e nell'impostazione generale. Io ricordo che questo altopiano è un unicum, così abbiamo scritto ieri nel nostro comunicato stampa. Lei conosce un altro altopiano carsico abruzzese, così vasto e così poco ancora interessato da lavori, da antropizzazione? Io personalmente no. Ci hanno provato in tanti, per tanto tempo. È stato veramente un miracolo che i piani pezzi si sono conservati. Nel 69 la volta, nel 70 la Cassa del Mezzogiorno. All'inizio degli anni 70 le proposte di impianti alla Duchessa coinvolgevano anche Capopezza. Nel 75 venne la Insud e per fortuna il politico. Il politico che era interessato si interessò poi successivamente di altre zone e anche quel progetto venne meno. Dopodiché, col protocollo letto del 2011, purtroppo sono cominciati guai. Perché sono cominciati gli strumenti normativi e pianificatori che hanno poi successivamente consentito di cominciare ad attingere fondi da sempre, a parte le variazioni sul tema di che ho ricordato poco fa, lo stato del fondo ai piani di pezza è stato la meta. Noi riteniamo, al di là dell'oggettività degli attuali presenti lavori, noi riteniamo che questo sia un ulteriore passo verso quegli sviluppi, come abbiamo ricordato ieri. Non è concepibile. Ripeto, i piani di pezza sono un unicum. Sono il fiore all'occhiello, uso la stessa immagine del Comune di Roccadimezzo. Comune di Roccadimezzo dovrebbe dire quella bambaggia.